Tu mi dici è troppo tardi Tu mi dici è finita per noi due Mi ripeti che il passato non potrà tornare Ma no, non è vero, amore E credimi, pensandoci Posso dirti il passato siamo noi I giorni che ci appartengono I ricordi che non ci lasciano Sono luci che non si spengono E nessuno può viverli come noi due Qui nel mondo che ci appartiene Che è fatto di te, di me, di tutto E di niente Non mi dire è troppo tardi Non mi dire è finita per noi due Non mi dire è che il passato non potrà tornare Tu chiami il passato La gioia di pervivere Di esistere Di capire questa nostra realtà E nei giorni che ci appartengono I ricordi che non ci lasciano Sono luci che non si spengono E nessuno può viverli come noi due In un mondo che ci appartiene Capato di te, di me, di tutto E se niente E credimi Pensandoci Posso dirti il domani Siamo noi Ogni volta che vado al commissariato di quartiere Il commissario mi dice di stare tranquillo Che c'è tanto lavoro Che la ritrovano la mia bambina Io ci vado una volta alla settimana E il commissario mi ripete sempre la stessa cosa Che la ritrova la mia donatella Ma è passato ormai più di un mese E non l'hanno ancora trovata E io non ce la faccio più Continui l'ascolto Sa come l'Italia Uno va dal capo piccolo e non ottiene niente Allora Va dal capo grosso E così magari qualcosa succede Quanti anni ha la sua bambina? 25 Una di 25 anni non è una bambina Mia figlia è una bambina Mia figlia è una bambina E lo sarà anche quando avrà 100 anni E' nata così mia figlia Una roba di RH negativo di mia moglie Hanno detto i dottori Anche se ha 25 anni Ha l'intelligenza di una bambina di 3 Sono molto innamorata di te Ma ti lascio Mi dispiace Non ti posso far felice E lo so Il tuo ritmo Non lo reggo Se dovessimo sposarci io e te Ti figuri Che disastro Io che dormo Tu che corri perciò Ti saluto E così sia Non ha mai pensato Ma sì, di farla ricoverare Ci sono tanti posti adatti a ragazze di questo tipo Dai matti No, mai E perché? Perché? Se fosse stata Se avessi avuto una qualche altra malattia Che so Un'epatite virale per esempio Non l'avrebbe portata in ospedale Che c'entra? Un'altra cosa Di una Epatite Si può anche dire Ma Di una cosa così E invece tu Che fai Che fai Che fai Che sai Che puoi Che palla Chissà perché Farai Andrai Saprai E io potrai Ti faticare Che fai Dunque col caso La mente Di questa incompatibilità Il dottore dice che ha una malattia La mia bambina è una ragazza onesta, ma è malata È una malattia quella lì che guarda tutti gli uomini Sorride E qualunque cosa le dice un uomo Lei dice Sì Io a lei dottore ce lo dico E lei mi capisce Ma gli altri, la gente Come ce lo spiego che è una malattia Per questo l'ho tenuta sempre chiusa in casa Ho dovuto persino mettere dei lucchetti e le persiane Per impedirle di uscire sul balcone Ecco qui Berzaghi Donatella di Ammanzio e di Coletti Maria Faccia vedere Il commissariato ha passato la pratica a buon costume C'è anche l'Interpol Ecco qua Tutte le questure d'Italia hanno ricevuto la comunicazione Ma chi la sta cercando? Nessuno In Italia ci sono migliaia di ragazze che scompaiono di casa tutti gli anni E se un agente incontra per caso sua figlia È già bravo se si ricorda le foto sulle decine Che gli fanno vedere ogni giorno Poi la mia povera moglie è morta Io devo continuare a lavorare Ero costretto a lasciare sola la bambina tutta la mattinata Però le telefonavo ogni ora Le avevo insegnato come si parla con il telefono Anche quel giorno avevo telefonato a Donatella Lei mi aveva risposto Fa male? Mare del diavolo Perché non si fa visitare? Grappa alla mattina? È da quando ho avuto l'incidente al ginocchio Che mi sono abituato a bere un po' di grappa Ma a casa non la tengo La bevo solo qui da Michele Quando torno dall'ufficio Allora? Qual giorno? Uno Due Tre Altra rispondeva sempre Era una macchinetta Volevo stare calmo Se no mi veniva un colpo E Donatella la fanno morire in un manicomio Già una volta mi era capitato di sbagliare numero E anche lì avevo creduto di morire Non può essere successo niente È appena un'ora che le ho telefonato E mi ha risposto che andava tutto bene Oddio 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 Forse si sente male Oddio 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 Donatella! 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 E' nessun segno di questa... di questa inverosimile sparizione? No. Tutto a posto, tutto chiuso come sempre. La porta d'ingresso con la serratura chiusa a sei mandate. I lucchetti alle finestre. E alle tapparelle. Non han toccato niente. E non mancava niente? Vestiti, roba da toilette? No. Eccetto l'abito che ho indosso. Ah, si. Un orsacchiotto. Un portafortuna che ho sempre con me. Sul vestione a rimorchio della Milano Brema. Allora facevo la prima guida al lavandero. Poi, dopo l'incidente al ginocchio, l'ho regalato a lei. Se lo teneva sempre stretto. Visto che non può trattarsi di un incantesimo, che non è previsto da regolamento... Vuol dire che qualcuno, al corrente della situazione, con una chiave falsa è entrato nell'appartamento. Magari un bel ragazzo. Lei, se era come era, l'avrà seguito docilmente. E' quello che più o meno ha detto il commissario del quartiere quando sono andato da lui. Farà strada il ragazzo. Senta, ma... Nel quartiere, nei vicini, nessuno ha visto uscire. Il commissario ha chiesto qui in giro. E anch'io ha chiesto, ma... Ma un brutto giorno una persona sparisce e non se ne sa più niente. Ne succedono tanti di questi casi, sa. Ma questo è successo a me. E' la mia bambina che è sparita. Anche per gli altri genitori è la loro figlia che sparisce. Io non riesco a pensare agli altri. Agli altri... Si pensa quando tutto va bene. Faccia qualcosa... Per la mia bambina. Capo, pensa davvero di occuparsene direttamente? Secondo lei perché hanno rapito la ragazza? Tante ragazze vengono mandate a battere e lei lascia che se ne occupi la buon costume. Lo ha guardato negli occhi quel poveraccio. Faccio spesso domande stupide, vero? Mascaranti. Mi faccia un favore, si taglia i capelli. Buongiorno. 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 Lei è il direttore? A sua disposizione. È molto giovane. Beh, oggi si fa presto a fare carriera, specialmente quando uno ci sa fare. E lei è uno che ci sa fare? Sì, direi proprio di sì. Soprattutto quando sono ispirato. Facciamo un giretto? Un giretto? Con questa? Voglio sempre provare le cose prima di comprarle. È il mio sistema. Beh, non mica male come sistema. Mi accompagna o si fida a mandarmi da sola? L'accompagno, l'accompagno. Sandro, cappotto e taga in prova. Vede, non è che non mi fidi, l'accompagno per il piacere di stare con lei. Pronto, centrale. Semun Taglito Nel chiesa Laintonia Ma Quena Contro castenne che cavolo le prende bene io sono arrivata come arrivata ho un appuntamento da queste parti e per definire l'acquisto oggi l'ho provata domani forse la compro grazie del passaggio molto simpatico sai che mi importa se sono simpatico saranno anche belle ste macchina ciao magnaccia abbiamo fatti i soldi e traffichi con le auto ora salvatore guardi che tutto in regola dottore glielo giuro non giurare salvatore che vai all'inferno e che novità sulle donne quella è una storia vecchia mi sono fatto due anni di galera e mi sono bastati adesso sono pulito anche da lontano puzzi salvatore sono diventato una persona per bene io i soldi adesso li faccio con le auto i soldi li continui a fare con le donne tu sei un papa salvatore il più bravo sul mercato di milano a mettere in pista le donne è così che si dice vero mettere in pista condurre alla prostituzione sfruttare poi ma cosa volete da me notizie su questa ragazza mai vista quanto ti rende ma cosa mi rende io bene va bene ti credo non la conosci però puoi aiutarci lo stesso portaci in tutte le case che conosci cominciando da quelle di lusso da quelle dove una ragazza come questa può diventare un grosso affare non servirebbe a niente dottore appena la polizia mette piede in una di quelle case tutte le altre lo vengono a sapere che voi non trovate più un cavolo e chi parla di polizia io ho detto sarai la nostra guida mascaranti ed io saremo due clienti in cerca di di distrazione dobbiamo andare in quelle case come clienti perché le dispiace forse no è che chi paga non so la questura rimborsa queste spese basta riempire i formulari giusti che ridi sta attento non barare bambino altrimenti ti ricorderai di me mi invocherai persino nelle tue preghiere allora salvatore non posso se io vi aiuto e quelli lo vengono a sapere sono finito ma se non ci aiuti sei finito lo stesso ma mi ammazzano se faccio la spia quelli mi ammazzano non è mica gente che ci marcia leggera quella lì e sì che dovresti conoscermi porca eva credevo che fosse vecchio il trucco di nascondere la merce nelle auto ma 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 quale merce io non ho nascosto niente e questo qui che cos'è guardi che c'è dentro ma che bel pacchettino confezione natalizia credo di indovinare si ho indovinato capo questa è coca pure tanto o che sorpresa ma che cos'è uno scherzo io non vendo coca ma sì ma era qui nella tua auto nascosta la ragazza ecco che ce l'ha messa la ragazza la ragazza quale ragazza qui non ci sono ragazze l'avete mandata voi la ragazza è vostra quella roba vieni a dirlo giudice che roba nostra e forse il giudice ti crede io penso di no e allora ti farei qualche annetto e quando uscirai niente più negozio né donne né soldi ma avete fregato ma siete stati voi a mettere quella roba porca eva grazie a tutti grazie a tutti come c'è rimasto ben male poveraccio poveraccio un tubo con tutte le porcate che ha fatto in vita sua gli do l'occasione per una volta di comportarsi bene tu lo compatisci non è che lo compatisco è che mi dispiace solo di averlo incastrato senti amore anche a me mi hai incastrato ma questa è splendida così ingenua delicata è per la copertina prima regola di un fotografo dare in un'immagine la sintesi di tutto un avvenimento è un po' presuntuoso il fotografo non ti sembra e perché signor modestini ma pretendere con un click di spiegare perché gli uomini continuano a soffrire e a morire mi sembra un po' presuntuoso spiegare perché è facile difficile sembra che sia capire non pretendo che tutti capiscano vorrei solo che la gente non morisse più anche se forse chiedo troppo tesoro la gente continuerà ad amare a odiare a uccidere a morire tu credimi non puoi farci niente assolutamente niente io non posso farci niente tu non puoi farci niente nessuno può farci niente e tutto continua come sempre che bella festa eh andiamo a letto è tardi non posso devo controllare le didascalie delle foto ma lascia perdere riposati mi riposerò quando sarà uscito il libro ma piuttosto come ti va la sinusite sempre male grazie perché continui a non curarti fai come ti ha detto il medico e vedrai che ti passa certo e come no e magari manderò anche un fonogramma a tutti i ladri e a tutti gli assassini che sono attualmente in circolazione in lombardia la signoria vostra è pregata di starsene buona e tranquilla per 15 giorni perché io devo curarmi la sinusite olè amore alla polizia non ci sei solo tu hai detto la tua ciao 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 Mentre io sto con la ragazza a non tentare di fare brutti scherzi, te ne pentiresti Le ho promesso, dottore, che l'avrei aiutata E io mantengo sempre le promesse Guardi però che deve pagare prima di vedere le ragazze Se no quelle si insospettiscono Eh come no, pagamento prima della consegna e conosco gli usi Ecco signori, prima di tutto un aperitivo Utile per dare fantasia Prego Salute Salute Ecco qua il prezzo del biglietto per assistere allo show Che in questo caso incomincerà subito Con le ragazze più particolari che può trovare attualmente qui a Milano Giselle Francese, piena di fantasie depravate e malinconiche Erika I suoi genitori, SS autentici, comandavano un campo di concentramento E questa è Hildegard Pallida e nera come la notte che l'ha generata Alta come i Carpazzi sui quali è cresciuta Ecco, io ho sempre avuto una passione per le donne alte Io cerco una ragazza alta un metro e ottantacinque Ha venticinque anni E forse tu la conosci o magari sai dirti dov'è Perché la cerchi? Sei un poliziotto? No, 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 sono un amico Sai qualche cosa di lei? No, amico mio mai vista Ma se pensi di trovarla facendo il giro di tutte le case mi sembri matto Comunque auguri Grazie Grazie a tutti 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 Buongiorno Grazie a tutti 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 Come va Grazie a tutti 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 Buongiorno Grazie a tutti 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 Tu non è Grazie a tutti 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 Adesso Urlava Grazie a tutti 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 che cosa vuole perché l'avete uccisa ma cosa dice perché l'avete uccisa che l'avete uccisa pronto venite presto avanzi qui sa tutto presto pronto franco dai meves che l'avete uccisa dimmi perché l'avete uccisa non sai che l'avete uccisa dava fastidio dava fastidio la mia bambina faceva altro che urlare era una pazza la polizia ci stava dietro la tua donatella era diventata un peso inutile era pericolosa per questo l'abbiamo uccisa la mia bambina dava fastidio maledetto potevate ridarmela se vi dava fastidio potevate ridarmela e io la riprendevo io la riprendevo anche se l'avevate tenuta nei casini io la riprendevo potevate ridarmela se vi dava fastidio potevate ridarmela allora fuori questi indirizzi che ascolto concetta giarzone via tissari 8 michele sarrosi via tissari 15 via tissari non è la strada dove si ci abita bersaghi infatti continuate a cercare baronia a cieli rimascaranti toglietti michele toglietti toglietti michele toglietti toglietti michele a a a a a a b Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Sábato. Sábato. Sábato.